vedremo due versioni diverse degli squat dunque la prima versione è una versione posturale e ci garantisce di lavorare su tutto il corpo sulla postura e potenziare il corpo e attivare meglio poi successivamente anche gli altri muscoli ci metteremo nella posizione a crocefisso o ad avvoltoio ossia in questo modo con le braccia piegate proprio come un crocefisso non lasceremo la spalla morbida quindi affetteremo una piccola chiusura del polso delicata in modo da stabilizzare la spalla in modo che non sia fluttuante dovremo fare solo tre movimenti chiudere in avanti le braccia quando scendo e riaprirle quando risalgo per bilanciare il corpo non andare nello squat tradizionale con le ginocchia in avanti ma sedermi indietro e rialzarmi arrivando con le cosce a livello parallelo del corpo e per fare questo non posso farlo piano ma devo unire alle braccia al movimento di seduta a una velocità superiore proviamo a avere tre esecuzioni frontali di questo scendiamo un pochettino di meno e saliamo ok dall'altra parte ci giriamo lungo il fianco e notiamo l'esecuzione l'esecuzione sarà questa cercare di sedersi non troviamo la seggia ci rialziamo rapidi perché piano è impossibile sfruttando il meno possibile la schiena l'altra versione è lo squat alla giapponese dove viene associato l'uso delle braccia è una buona attivazione generale per tutto il corpo in pratica si tratta di utilizzare lo slancio delle braccia indirettamente lavoreranno le gambe alla fine le gambe faranno come un effetto a barchetta il tutto sta nel pensare di slanciare le braccia le gambe lavoreranno automaticamente il corpo si muoverà naturalmente questo è un lavoro sulla postura anche questo ha fatto slanciato quindi partiamo in posizione iniziale come un portiere che deve recuperare un pallone braccia piegate in posizione naturale non dobbiamo essere rigidi porteremo le braccia giù e su giù e su e il movimento a barchetta è proprio in questa fase finale naturale perché tol svancio le braccia anche bene dietro e rilancio su scendo riparto cercando il più possibile di mantenere il tallone appoggiato per terra scendete piuttosto meno non è necessario scendere troppo grazie a tutti